Giovedì in Consiglio Provinciale a Bolzano era stato approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Urzì di Alto Adige nel Cuore, nel quale veniva chiesto di verificare la compatibilità dei temutissimi speed check con il codice della strada, invitando le amministrazioni comunali a rinviare l'utilizzo e l'attivazione a titolo cautelativo delle infrastrutture, sollecitando un chiarimento nel merito da parte del Ministero ai Trasporti. Nello stesso giorno però il comando Bolzanino dei Vigili Urbani li ha regolarmente accesi e sono fioccate le prime multe. Due le colonnine arancioni attivate in via Galilei e in via Cadorna. Nella prima via è stato acceso alle 22, su 450 passaggi solo 12 le infrazioni, il 4,38%. Addirittura zero superamenti del limite di velocità in via Cadorna, dove la colonnina è stata attivata ieri pomeriggio dalle 15 alle 16. In tutto 300 i passaggi e come detto nessun superamento del limite. Le multe elevate con il nuovo sistema verranno regolarmente inviate ai trasgressori, dunque per tutti i guidatori la raccomandazione rimane una per rispettare i limiti di velocità.